Incontro istituzionale con gli studenti dell'Istituto Colombo di Sanremo al termine del quale avete donato una coppia della Costituzione. Assolutamente, come amministrazione in questi quattro anni abbiamo fatto tanti incontri. Penso che comunque il confronto con i giovani possa aiutarli sicuramente a capire come si amministra una città e non per niente oggi il sindaco, gli assessori e anche i consiglieri sia le maggioranze che le opposizioni con i loro interventi hanno risposto a delle domande che i nostri ragazzi hanno loro posto. Quali domande vi hanno rivolto i ragazzi e cosa avete risposto? Devo dire che in questo incontro, a differenza di altri che le scuole erano magari elementari e medie, oggi con le superiore sono state abbastanza domande tecniche, dal bilancio all'urbanistica, comunque alla raccolta di rifiuti, domande devo dire abbastanza importanti che hanno avuto delle risposte. L'invito è quello comunque di continuare, per noi è importante avere un confronto sempre con i giovani perché oggi, come dico sempre, siamo seduti noi su questi posti a governare, un indomani potrebbe toccare loro. Grazie 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 Grazie